La Virtus Franca Villa va a caccia del pocherissimo, dopo le due vittorie in Coppa Italia e le altre tante in campionato, quest'ultima, entrambe accompagnate anche dal clean sheet, Ciro Ginestra insegue il quinto successo stagionale contro Nischia dai due volti, capace prima di battere il Brindisi con un gol di Favetta, e poi di essere travolta con tre reti tra le mura amiche dallo splendido Martina Di Pizzulli, squadra che vince e convince non si cambia. E' molto probabile, infatti, che l'allenatore Biancazzurro insista con la formazione vista a Franca Villa e Insigni, e a parte un interprete, anche all'esordio contro il Manfredonia. Sosa, terminale offensivo, con Taurino e Pinto sulle corsie laterali, il solito ballottaggio riguarda Gionai e Mbaillet, con il primo che garantirebbe qualità e fantasia sulla tre quarti e disegnando, in fase di non possesso, una linea 3 di centrocampo con Marco Nato e Buonavolontà. In caso la scelta dovesse ricadere sul senegalese, invece, 4-2-3-1 con Marco Nato alle spalle della punta, linea difensiva che non dovrebbe subire variazioni, con Costantino e Lambiase sulle corsie laterali e la coppia centrale composta dai soliti Allegrini e Lanzolla, leader assoluti del gruppo in campo e fuori, minuti in corsa, invece, per De Nova, sempre più Giolli prezioso nella retroguardia della Virtus, e Arrighini desideroso di presentarsi alla Franca Villa calcistica, con un gol.